ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo di ellen ulic la donna che finì in prigione per difendere il suo diritto a indossare i pantaloni anche di annette kellerman la notatrice australiana che fu arrestata per l'indecenza del suo costume da bagno e poi di una donna fra le tante che negli anni 20 venne arrestata per il costume da bagno troppo corto in definitiva degli assurdi arresti e multe combinate alle donne fino a non troppo tempo fa non molti conoscono il nome di ellen ulic un'educatrice statunitense che applicò terapie innovative e per l'epoca rivoluzionarie dell'insegnamento rivolto ai bambini con problemi di udito e linguaggio tuttavia i giornali statunitensi parlarono molto di lei per un episodio che pur dimostrando il suo carattere anticonformista non aveva nulla a che vedere con il suo lavoro di educatrice il 9 novembre 1938 ellen ulic era stata convocata dal tribunale di los angeles come testimone di un furto con scasso avvenuto proprio nella sua abitazione si presentò davanti alla corte indossando un paio di pantaloni capo di abbigliamento che 80 anni fa non era così consueto per una donna il giudice arthur geren sospese l'udienza intimando ellen di presentarsi la volta successiva con un abbigliamento più femminile la giovane donna che all'epoca aveva 28 anni dichiarò senza mezzi termini a los angeles times dite al giudice che farò valere i miei diritti se mi ordina di mettermi un vestito non lo farò mi piacciono i pantaloni sono comodi il 14 novembre ellen ulic che si era ripresentata in tribunale indossando dei pantaloni fece scatenare l'ira del giudice forse accecato dai brillanti colori del suo abbigliamento verde e arancione portati con naturalezza dalla battagliera maestra d'asilo ancora una volta il giudice interruppe il procedimento e si rivolse infuriato verso la testimone l'ultima volta che si è presentata a questa corte vestita come ora ha attirato l'attenzione dei presenti dei prigionieri e del tribunale più del procedimento in corso le è stato chiesto di tornare con un abbigliamento accettabile per una procedura in tribunale oggi è tornata indossando dei pantaloni sfidando apertamente la corte la corte le ordina di tornare domani con un abito adatto se insiste a indossare i pantaloni le verrà impedito di testimoniare ma sia pronta a essere punita secondo la legge per oltraggio alla corte ellen non si fece intimidire dalle minacce di garen e dichiarò tornerò con i pantaloni e se il giudice mi mette in prigione spero che ciò possa aiutare le donne a liberarle per sempre dagli anti pantalonisti fedele a se stessa ma col supporto di un avvocato william caz che si era portato dietro quattro volumi di citazioni sul diritto a indossare anche in tribunale l'abbigliamento voluto ellen si ripresentò in pantaloni a suo dire lei non possedeva abiti se non uno da cerimonia perché portava solo pantaloni dall'età di 15 anni il giudice guardò la ragazza con disprezzo e la condannò a cinque giorni di prigione dove fu alla fine costretta a indossare un abito quello in tela di jeans delle detenute l'avvocato che aveva ottenuto il suo rilascio immediato portò la questione in corte d'appello che sancì il diritto di ellen come di ogni altra donna a indossare i pantaloni anche in un'aula di tribunale il 17 gennaio del 1939 ellen ulick fu di nuovo convocata come testimone sul furto a casa propria dopo la sua vittoria sul giudice geren e soprattutto sulla mentalità bacchettona dell'epoca la ragazza si presentò in tribunale vestita in abiti femminili nonostante l'ottusa intransigenza del giudice i pantaloni venivano già portati da moltissime donne negli stati uniti anche grazie agli insegnamenti di mary walker l'unica donna ad aver ricevuto la medaglia d'onore statunitense che era per di più un rinomatissimo medico la walker portava i pantaloni perché ne riconosceva i benefici igienici ma forse il giudice non conosceva la sua storia fino ai primi anni del 900 i costumi da bagno femminili non esistevano o meglio le misda spiaggia per le signore per quanto più leggere e meno ingombranti degli abiti da città consistevano comunque in vestiti che arrivavano fino alle ginocchia corredati da pantaloni a sbuffo fino al polpaccio sotto cui venivano indossate calze e scarpe la rivoluzionaria per l'epoca invenzione di un costume a pezzo unico una sorta di tuta aderente simile a quella indossata dagli uomini in quel periodo si deve ad annette kellerman una notatrice australiana che divenne poi attrice di teatro cinema e spettacoli di vaudeville anche se viene ricordata principalmente per aver sostenuto il diritto delle donne a indossare un costume da bagno che le lasciasse libere nei movimenti in acqua la sua carriera di nuotatrice è legata a una circostanza sfortunata la bambina fu costretta a usare dei sostegni di acciaio per un problema di debolezza alle gambe i genitori le fecero frequentare dei corsi di nuoto grazie ai quali a 13 anni non solo riuscì a superare la sua disabilità ma divenne anche un'eccellente nuotatrice tanto da prendere parte a numerose gare e diventare nel 1902 la campionessa del miglio nel nuovo galles del sud oltre al nuoto annette celeva anche nei tuffi e nelle immersioni e fra i 15 e i 16 anni si esibì in diversi spettacoli sia di immersioni sia di nuoto nel 1907 la kellerman andò negli stati uniti per esibirsi come ballerina sott'acqua in uno spettacolo di nuoto sincronizzato ante litteram in una piscina di vetro all'ippodromo di new york fece quello che viene considerato il primo balletto acquatico per la prima volta una donna si mostrava in pubblico indossando un costume da bagno a un pezzo ma la cosa che fece più scalpore e che le costò l'arresto con l'accusa di atti osceni fu quella di aver indossato sulla spiaggia di boston un costume che le lasciava scoperte le gambe e le braccia l'arresto però ebbe l'effetto di indignare l'opinione pubblica e quindi anche di far accettare la sua mise innovativa la popolarità della sua tuta indusse la creazione di una linea di costumi da bagno per signore chiamati proprio col suo nome nel 1912 alle prime olimpiadi in cui le donne furono ammesse alle gare di nuoto le atleti indossavano dei costumi ispirati al pezzo unico di annette kellerman mentre nel 1920 la prestigiosa rivista di moda arper bazar lodò la nuotatrice scrivendo il costume da bagno di annette kellerman si distingue per un'incomparabile e audace bellezza della forma rimanendo sempre raffinato tuttavia ancora nel 1943 negli stati uniti i costumi kellerman venivano considerati una prova di indecenza come abbiamo visto nelle due storie precedenti fino a non troppi decenni fa le donne correvano il rischio di essere arrestate per il tipo di abbigliamento che indossavano ancora nel diciannovesimo secolo le signore europee avevano bisogno di un'autorizzazione speciale per poter indossare abiti maschili anche riuscire a indossare un costume da bagno e non ingombranti vestiti lunghi corredati da pantaloni non fu così semplice agli inizi del novecento scoprire gambe e braccia era considerata una cosa indecente in particolare negli stati uniti d'america e c'erano leggi a salvaguardia della pubblica moralità leggi che avevano bisogno di un metro da sarta per controllare quanti centimetri di pelle una donna avesse il diritto di scoprire in pubblico d'altro canto nemmeno gli uomini potevano presentarsi in spiaggia a torso nudo ma dovevano indossare un monopezzo simile a un costume intero fino ai primi anni del novecento le donne dovevano indossare sia per stare in spiaggia sia per fare il bagno vestiti che le coprissero interamente con dei pesi nell'orlo della gonna in modo che non si sollevasse mentre erano in acqua come abbiamo visto poco fa fu la nuotatrice annette kellerman che ideò il primo costume da bagno intero per signora fu arrestata neanche a dirlo sulla spiaggia di boston per aver osato mettere in mostra braccia e gambe la kellerman poi modificò il modello allungando il pantalone e aggiungendo maniche e colletto mantenendo però l'aderenza del costume paradossalmente l'arresto della kellerman rese popolare la sua invenzione i costumi iniziarono a ridursi togliendo le maniche e ampliando la scollatura sul davanti e soprattutto sul lato posteriore mentre nuovi tessuti come rion rendevano l'abbigliamento da spiaggia più comodo e pratico in europa invece già negli anni 30 qualche attrice osava indossare un costume a due pezzi che non doveva però scoprire l'ombelico l'uso dei due pezzi si diffuse negli stati uniti solo durante la seconda guerra mondiale quando la carenza di tessuto impose una riduzione anche sulla quantità di stoffa da utilizzare per l'abbigliamento da spiaggia poi dalla francia arrivò il bikini nel 1946 così scandaloso e indecente che il suo stesso inventore lui real lo descrisse come un costume da bagno a due pezzi che rivela tutto di una ragazza tranne il nome da nubile di sua madre ancora nel 1957 una rivista di moda affermava che è quasi inutile sprecare parole sul cosiddetto bikini perché è inconcepibile che qualsiasi ragazza dotata di tatto e decenza possa mai indossare una cosa del genere d'altronde il peccaminoso bikini era bandito dalle spiagge francesi ma solo quelle sull'atlantico spagnole portoghesi australiane e di alcuni stati degli stati uniti e ovviamente anche da quelle italiane erano altri tempi ma anche altri costumi